Monitoraggio di un'applicazione AspNet Core con Prometheus e Grafana. Ciao, io sono Michele e in questo video andiamo a strumentare un'applicazione AspNet Core per esporre degli endpoint con delle metriche Prometheus, raccoglierle e mostrarle su una dashboard di Grafana. Prometheus e Grafana sono degli strumenti molto diffusi in ambito microservizi e utilizzati in cluster Kubernetes per raccogliere metriche delle nostre applicazioni e tenerle sotto controllo con un accurato monitoraggio e delle dashboard con Grafana e ovviamente il monitoraggio è una delle pratiche diffuse e raccomandate da DevOps quindi un punto assolutamente importante se stai studiando per diventare un DevOps Engineer. Se da questo video imparerai qualcosa o ti piace mi raccomando metti un mi piace, iscriviti al canale così sarai notificato di nuove uscite. Quindi parto da un progetto di default AspNet Core, lo chiamo Monitored Application e faccio avanti, mi faccio già scrivere da Visual Studio Code il Dockerfile e non mi piacciono le istruzioni di primo livello, sono un po' vecchio stile ma non importa. avanti, ok, quindi io qui ho l'applicazione, adesso vediamo che si prepara il contesto Docker qui sotto faccio F5 perché la voglio vedere funzionare compilazione in corso ok, faccio partire ecco l'applicazione, mi si è aperta di qua e molto bene ecco la pagina, ci posso navigare è il classico template di un'applicazione AspNet Core va bene da qui andiamo avanti, andiamo ad arricchire per prima cosa l'applicazione che è con gli strumenti per esporre gli endpoint Prometheus per raccogliere le metriche allora prima vado ad aggiungere il pacchetto .NET cerco Prometheus e metto Prometheus.NET AspCore, questo qui scarico ultima versione abbiamo il pacchetto installato che ci mette a disposizione gli strumenti per esporre gli endpoint Prometheus a questo punto vado qui nel main del program e vado a indicare che voglio utilizzare le metriche HTTP e lo faccio digitando app.usehttpmetrics che deriva da Prometheus a questo punto faccio F5, qua in altro Visual Studio mi ha già messo l'using Prometheus mi si apre come sempre nel secondo schermo faccio barra metrics e sì in effetti manca ancora un pezzo devo aggiungere l'endpoint mi metto qui dopo il riserpages e vado a mettere endpoint.mapmetrics questo mi permette di gestire quell'indirizzo barra metrics che mi espone tutte le statistiche di cui ho bisogno tutte le misurazioni, le metriche barra metrics eccolo qui quindi vado ad ingrandire questi sono diciamo tutti i numeri tutte le statistiche che mette a disposizione Prometheus in configurazione assolutamente default standard e vediamo i bucket per esempio le durate la somma delle richieste HTTP quante ne arrivano al secondo e i vari bucket quindi quelle che sono durate meno di un millisecondo meno due, quattro, otto, sedici questi sono i bucket di default cosa succede? faccio duplica scheda metto un'altra qui e qui vado sulla home page vado così vado ad utilizzare un po' la mia applicazione qui aggiorno e vedo che sono aumentate per esempio facciamo che lo vediamo meglio così sono aumentate le chiamate HTTP lo vediamo qui vediamo HTTP request received ok total counter siamo a 7 ne faccio un altro po' aggiorno siamo a 13 1, 2, 3 siamo a 16 quindi effettivamente sta funzionando qui le tempistiche ovviamente sono quasi rilevanti perché sono tutte iperveloci però intanto abbiamo la prova che il nostro endpoint delle metriche sta funzionando molto bene a questo punto ho bisogno di un server Prometheus da configurare per raccogliere le metriche esposte da questo endpoint quindi me lo vado a recuperare in formato container questa è la pagina della documentazione ufficiale di Prometheus che ci dice che è un sistema di monitoring alerting costruito da Sonar Cloud originariamente nel 2012 poi diventato open source utilizzato molto in ambito Kubernetes quindi andiamo a prenderci la configurazione di base qui c'è anche l'architettura che potrebbe essere poi argomento di un altro video e quello che comunque noi vogliamo anche arrivare a fare è esporre i dati su Grafana quindi questa architettura può essere molto interessante quindi noi abbiamo ovviamente non un sistema con Kubernetes in questo momento ma siamo semplicemente andiamo a leggere delle metriche down endpoint e poi con Grafana le andiamo a visualizzare comunque tornando a noi vado a prendere l'immagine da Docker Hub e prendo l'ultima versione promprometheus vediamo i vari tag che ci sono mi prendo tranquillamente il latest non ho esigenze particolari allora mi vado a predisporre per Docker Compose così vado meglio sia per avere l'infrastruttura Prometheus e Grafana per utilizzare Docker Compose per infrastruttura di sviluppo ti consiglio il mio video precedente che metto in descrizione allora vado qui sul progetto faccio aggiungi supporto per la gente di orchestrazione voglio Docker Compose ok per Linux mi va bene a questo punto Visual Studio mi propone già il progetto Docker Compose e va bene mi prendo da un template che avevo preparato il servizio questo l'ho duplicato Prometheus e perché voglio andare a Prometheus si configura tutto tramite file di testo che viene passato e quindi vado a dirgli vado a dare la configurazione che monto un volume o meglio un file di testo in questa cartella del container di Prometheus e andrò poi a definire meglio il mio file YAML intanto vado a provare l'infrastruttura commento un attimo questa parte perché i valori giusti li mettiamo tra poco vado a provare l'infrastruttura e vediamo per quanto riguarda l'infrastruttura devo configurare la porta in ascolto la 9090 e lo faccio scrivendo ports due punti 9090 il suggerimento è arrivato da GitHub Copilot fantastico faccio partire eccoci qua visito la pagina localhost 9090 questa qui e mi apre l'home page di Prometheus ovviamente senza configurazione per quanto riguarda su configuration c'è quella sua di default non sa dove fare gli scraping e questo è il mio sito però almeno l'infrastruttura funziona ok ora vado a creare un nuovo file qui dentro faccio un nuovo elemento testo testo quindi testo lo chiamo promconfig.yml metto questo template di base lo chiamo monitored app job quindi definisco a livello globale un 15 secondi di scraping come configurazione di default per tutti qua ne faccio un override di 5 secondi e gli dico che il target è la mia applicazione che vado a prendere il nome dal servizio dentro e la chiamo e supporta standard quindi supporta 80 quindi va a fare lo scraping su monitored application porta 80 perché la mia applicazione espone di default la porta 80 a questo punto devo assicurarmi che questo file venga incluso nel container quindi che venga montato diciamo all'interno della directory del container così che all'avvio prometheus possa prendersi questa configurazione vado nel file docker compose e scrivo questo quindi nella sezione volumi vado a mettere la directory del mio file promconfig.yml la directory relativa alla radice di questo progetto dove viene lanciato il comando docker compose app quindi devo dire barra monitor application promconfig che è questo monitored application promconfig e lo vado a mappare dentro il container su etc prometheus prometheus.yml che è il file che si aspetta prometheus di leggere per la sua configurazione infine nella riga di comando config file etc prometheus.yml che vado proprio a dirgli guarda che quando ti avvi devi leggere questo file di configurazione a questo punto faccio partire tutto quanto viso studio mi tira su l'ambiente in docker compose eccolo ce l'ho di qua si posso navigare e quello che poi ottengo qui è un prometheus vado a vedere la configurazione è correttamente caricata vediamo che ho il mio target che è con le impostazioni che ho passato io poi vado sui targets e vediamo se è tutto in salute questo è il mio target la mia applicazione lo vedo vedo su end point vedo in state down e mi dice che l'https monitored application or a metrics il certificato non è valido per localhost è valido solo per localhost e non per monitored application ecco questo perché siamo in ambiente di sviluppo sto utilizzando un certificato self-signed non ho un certificato vero e proprio per il dominio monitored application per questo nome e quindi devo ottengo questo errore perché fa il controllo sulla https prometheus sulla connessione e quindi devo andare a disabilitare questo controllo che è una pratica che facciamo solo in ambiente di sviluppo e test e per apprendimento non è una pratica da fare in ambiente di produzione andiamo a disabilitare questo controllo per fare ciò devo mettere una leggera fare un leggero cambio di configurazione nel file di prometheus quindi vado su promconfig qui nella configurazione del mio target vado a mettere tlsconfig in secure skip verify e li metto a true e questo qui è il trucchetto diciamo la configurazione per evitare il controllo mi assicuro proprio di distruggere tutto quello che è il progetto compose per voglia essere sicuro che venga letto questo nuovo file di configurazione ok qui il debug si è arrabbiato ovviamente perché gli ho tolto il container mentre stava andando faccio ripartire tutto quanto adesso qui ho il browser con la mia applicazione vado su 9090 vado sul mio target che questa volta è up è verde con lo scraping fatto all'avvio e questo qui è up and running mi posso accorgere che effettivamente sta funzionando bene perché se vado a digitare una query per prometheus dovrebbe darmi i suggerimenti esatto http request received total faccio execute e vedo esattamente questo in formato grezzo che è la stessa cosa che io vado a leggere di qua http request received received count è questa cercando http request received total è questa qui che è lo stesso che vedo di qua a questo punto prometto se si è letto correttamente tutte queste tutte queste metriche e ho anche i suggerimenti quindi se io ando qui vedo che è correttamente collegato e abbiamo anche una descrizione faccio gli execute e vedo i miei bucket in questo caso a questo punto posso anche fare un po' di prove nel senso che genero un po' di traffico navigo diciamo così nella mia applicazione qui addirittura non sono uscito qui navigo un po' ecco adesso vado qui e vado a vedere http request received total che è quello che ricevo localhost barra matrix è lui http request received total counter vado a mettere qui faccio execute lo posso vedere in grafico ecco e posso vedere per esempio per le due pagine la index e la privacy posso vedere il grafico posso vedere anche diciamo in tempo reale io di qua visito clicco 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 faccio execute ok e vediamo anche con la risoluzione temporale più stretta posso vedere l'esempio funzionante il passo successivo è quello di inserire nella nostra infrastruttura anche un grafana che possiamo utilizzare per le sue avanzate funzionalità di dashboarding grafici e così via è quello che devo fare quindi andare nel mio docker compose e andare ad aggiungere quello che è un servizio grafana quindi lo dichiaro lo chiamo semplicemente grafana lo mettiamo qua lo mettiamo in mezzo e scriviamo che arriva da l'immagine copio incolliamo e vado a sostituire con grafana barra grafana due punti latest non vado a fare troppo sofisticato cercando un qualche immagine particolare in questo specifico tutorial ma mi prendo l'ultima immagine disponibile cosa faccio espongo la porta 3000 a questo punto non devo fare altro perché grafana così lo prendiamo come configurazione di base faccio partire docker compose e andiamo con la mia finestra del browser in localhost 3000 grafana di default ha admin admin se non ricordo male si nuova password facciamo admin punto punto admin punto punto giusto per ok a questo punto facciamo un setup da interfaccia grafica di grafana ma quello che stiamo per fare si potrebbe anche salvare in un file di configurazione così ad avere infrastructure diciamo configuration as code la salviamo si potrebbe recuperare appunto scrivendo in un file yaml e poi passandolo a grafana per configurarlo così però andiamo a mano così prendiamo anche un po' di confidenza con l'interfaccia grafica andiamo a fare una nuova dashboard ho detto una stupidaggine andiamo a fare una nuova data source così andiamo facciamo add data source prometheus gli diamo ok prometheus source src l'url è lui lo troviamo http db iki punti barra barra localhost due punti 9090 lasciamo l'autenticazione non ho autenticazioni in questa configurazione assolutamente di test e di prova faccio save and test e abbiamo un errore perché giustamente non è localhost ma devo collegarmi a prometheus non ce l'ho installato su me stesso quindi devo dargli il nome del servizio prometheus 9090 A questo punto proviamo save and test. Perfetto, si è collegato perfettamente. Ci siamo. Andiamo a creare una dashboard. In questo grafico che vado a fare voglio mostrare il rate di chiamate al secondo che ho ricevuto magari diviso per pagina. Quindi faccio una nuova dashboard, un nuovo panel, mi vado a scegliere qui tra le metriche della mia source Prometheus, mi scelgo tra le metriche che mi espone Prometheus, vado a prendere HTTP request received total. A questo punto però vado a fare una funzione range, cioè voglio un rate al secondo. Utilizzo questa variabile di sistema di rate interval calcolata da Grafana con delle ottimizzazioni per Prometheus. E quello che vado a fare è un run query e quindi lo vedo già. Ho la pagina gialla che è la index e la pagina privacy è verde. Vado a cambiare leggermente la leggenda perché è brutta da leggere così. Faccio custom e mi metto semplicemente il page. Ecco che così vedo privacy e index. A questo punto faccio applica. Ho questa mia nuova dashboard. Per esempio metto un autorefresh ogni 5 secondi. Ecco metto così la visualizzazione con un aggiornamento ogni 5 secondi qui e qui vado a generare traffico cliccando e potremo sicuramente vedere per esempio se faccio tanti hit sulla pagina privacy dovremo vedere il grafico che aumenta qui. Quindi magari ecco vado a vederlo più in grande per apprezzare di più la cosa dovremo vedere qui tra poco che cresce il verde. Eccolo qua cominciamo si comincia a intravedere nel grafico. Anche un po' i clic che ho fatto nel giallo prima. Aspettiamo un altro pochino. E lo vediamo che man mano che passa il tempo il grafico si sta disegnando in base qui adesso sono quante richieste al secondo. Io cerco di cliccare velocemente e così raggiungo anche un paio di 2-3 clic al secondo se andassi davvero davvero veloce. A questo punto il setup è completato per questa demo. È un setup di base e abbiamo che cosa? Quindi ricapitolando un Docker Compose che ci raggruppa tutta la nostra configurazione di infrastruttura. Quindi con la nostra applicazione abbiamo un grafana che espone la porta 3000 configurazione assolutamente standard e abbiamo il Prometheus che ci con la nostra configurazione fatta tramite file promconfig che abbiamo messo qui e che gli passiamo tramite i volumi. Il promconfig espone la configurazione del target dove andare a fare lo scraping. Qui questa è una configurazione statica si potrebbero fare configurazioni dinamiche e complicare piacere insomma. Però questo è un bellissimo punto di partenza per prendere confidenza con un'infrastruttura di monitoraggio. Ecco faccio partire il mio grafana faccio admin admin mi viene chiesta la nuova password che la cambio e a questo punto cosa faccio? Faccio uno stop di tutto, vado anche proprio a tirare giù, faccio Docker Compose Down proprio per dimostrare che stoppo completamente. Posso anche, quindi con rimozione di container, faccio un refresh finché non se ne va. Ecco se ne è andato tutto. Ok a questo punto faccio ripartire con Docker Compose e il volume http2.barra barra localhost 3000 mi sta tenendo, no 300, 3000 non ho dovuto fare login né niente perché si stava ricordando la mia sessione precedente questo significa che il volume mi ha salvato la sessione adesso posso configurare e mi restano le configurazioni senza dover rifare tutto da capo ogni volta tutto il sorgente, la configurazione tutto quanto, quello che viene fatto in questo video lo lascio come repository pubblico su github l'indirizzo che metto in descrizione così si può essere autonomi ne studiarlo ne guardarlo come si vuole avere esattamente quello che ho fatto io per oggi con il monitoraggio Prometheus e Grafana ci fermiamo qui nei prossimi video vediamo come farlo all'interno di un cluster Kubernetes perché qui abbiamo utilizzato un Docker Compose vediamo la stessa cosa con un cluster Kubernetes ciao e alla prossima ciao 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 ciao